Benvenuti, sono Roberta Briccolo, proprietaria dell'azienda Gurgo. Qui ci troviamo a questo Ozza, siamo a pochi chilometri tra la città di Verona e il lago di Garda. Queste colline moreniche coltiviamo da oltre 50 anni 53 ettari vitati e sono tutti certificati biologici. Dunque, crediamo nel potenziale di una vigna senza chimica e desideriamo valorizzare l'identità territoriale dei nostri vini. Questi gli ideali che stanno dietro il nostro vino Canova. È un rosso importante perché è ottenuto dalla vinificazione in purezza dell'uva corvina veronese, che è l'uva più importante della città di Verona, quella autottona, quella indigena. Ecco, dunque un'attenta vinificazione, un bilanciato affinamento in legno ci consente di preservare il frutto di quest'uva. Dunque, note di ciliegie, i merquilli, accanto a note speziate e a quel sentore di pepe che è tipico di questa varietà. All'assaggio com'è? Al palato? È elegante, è strutturato, ma molto equilibrato. È dunque un vino conviviale, ma che è in grado di accompagnare importanti preparazioni gastronomiche. Vi aspettiamo dunque per vivere un'esperienza di degustazione in questi luoghi. Siamo disponibili per far riconoscere il modo in cui lavoriamo e per vivere un'esperienza per apprezzare fin in fondo la bellezza di questi territori. Grazie. Grazie.